Ciao a tutti raga e benvenuti sul canale. Allora, oggi faccio un video diverso, non l'ho mai fatto una cosa del genere. Praticamente è un altro video di risposta, non è un video di risposta, è un video di risposta alla risposta di Riot al video di Voiboi. Sapete che Voiboi si è lamentato dello stato della solo Q e secondo me ha fatto bene, ha ragione, e io non ho ovviamente risposto perché non sono nessuno nella comunità di League of Legends. Però mi piacerebbe parlarne con voi che guardate i miei video e come me giocate a League of Legends per sapere cosa ne pensate di tutta questa roba. Allora, parto da questa considerazione. Oggi ho fatto quattro partite cercando di registrare un video. Voi sapete che questo non è il mio lavoro e quindi non è che posso stare quattro ore a tentare di registrare un video. Eppure ci sono stato tre ore e passa e non sono riuscito a farlo perché c'era sempre nella squadra avversaria o nella squadra mia un troll, un AFK. Veramente è stato un disastro. Quattro partite, una peggio dell'altra. Di solito non dico che non è possibile, che non è vero, eccetera eccetera. Però in realtà ultimamente la situazione secondo me un po' è cambiata, è degenerata, c'è qualcosa di diverso. È veramente frustrante a volte giocare in solo queue su League of Legends. A conferma di questo io adesso ho preso il video di Red Mercy che adesso vi faccio vedere cosa dice. Allora innanzitutto lui sta leggendo il tweet, scusate, il tweet di Nightblue che dice League of Legends in ILO è impossibile da streammare in questa stagione perché aspetta tantissimo tempo prima di fare una partita. Perché di solito ci vuole più o meno un'oretta, dice lui, ad entrare in partita in ILO alto. Questo perché ci sono ovviamente code più lunghe dato che ci sono meno giocatori, ma anche perché la gente doggia molto di più. Perché se vede un pick particolare che non gli piace, gli LP sono importanti e quindi si doggia. E dice che di solito lui aspetta da 5 a 10 champ select per entrare in game. E vabbè. Quindi League in ILO non è facile da streammare. E quindi lui dice, lui va in elo basso, no? Quindi va a giocare in silver, gold, eccetera eccetera. Sentite cosa dice anche Red Mertz riguardo il silver e il gold. Vabbè, è difficile entrare in un game. Sta dicendo che sta, ha provato a giocare in qualche, in un account vecchio e il game era tra silver e gold più o meno, come elo. 5 partite e ogni singola partita, ogni singola partita, lo dice due volte, c'era qualcuno che runnava down mid o trollava o andava FK. E io mi sono trovato nella stessa situazione. E mi sono trovato nella stessa situazione oggi ma in realtà ultimamente. E' una roba veramente frustrante, è una palla e mi dà veramente tanto fastidio. Mi rende l'esperienza di League of Legends molto pesante. Quindi andiamo a vedere cosa ha deciso di fare la Riot in risposta a tutta sta roba. Commenti sull'all comportamenti negativi. Allora, questo è il primo post che era uscito verso metà maggio. E vediamo cosa dice. Allora, dice praticamente che per migliorare sta cosa bisogna migliorare le notifiche del feedback istantaneo. Quindi abbiamo appena avviato una serie di test sul funzionamento dei nostri sistemi di segnalazione e notifica. Quindi il sistema di segnalazione di un comportamento negativo viene migliorato sostanzialmente. Però sono attivi solo in Nord America ma se la sperimentazione darà esito positivo, li implementeremo in tutto il mondo nel giro di un paio di settimane. E poi vedremo che nel secondo post dicono che hanno avuto effetto positivo. E va bene. Questo dovrebbe portare a un aumento significativo di comportamenti individuati e delle relative penalità. Perché dicono che a volte i comportamenti negativi non venivano individuati. In questo modo dovrebbero venire individuati. Va bene. Però dice anche tra le varie modifiche una è dedicata al metodo di generazione delle notifiche di penalità. In passato ricevevate la notifica che un utente da voi segnalato era stato punito solo se la punizione veniva attivata subito dopo la partita nella quale era stato segnalato. E se la penalità riguardava la specifica categoria per cui lo avevate segnalato. Quindi ricevamo poche notifiche sostanzialmente. Infatti dice tuttavia se il sistema tiene in considerazione più partite dei giocatori Tuttavia scusate il sistema tiene in considerazione più partite dei giocatori e aggrega le segnalazioni ricevute per diverse categorie. E di conseguenza le notifiche che noi ricevevamo erano molto inferiori rispetto alle punizioni. E vabbè. Il nuovo sistema vi invierà una notifica se un utente è stato punito a prescindere dalla categoria della segnalazione e lo farà anche se questo viene punito in una delle sue partite successive. Ok. Quindi Riot sta dicendo Vi invieremo più notifiche dei giocatori riportati. Questo però non significa che aumenterà il numero di giocatori che verranno puniti. Questo significa solo che noi riceveremo più notifiche riguardo i giocatori puniti. E questo è un modo un po' subdolo della Riot per dire Ce ne occupiamo Ma insomma non più di tanto. E questa è una roba terribile perché la maggior parte della playerbase gioca da platino in giù. Ovvero in quegli elo in cui, come diceva Red Mercy e come diceva anche Night Blue anche se il poster a sotto non si vedeva in quegli elo in cui questa roba di AFK, Troll, Grieffer, eccetera eccetera è molto più pesante. E va bene. Quindi secondo me questa è un po' una paraculata e non va bene. Poi, altra modifica Segnalare e silenziare nella selezione del campione Questa mi pare una cosa sensata Ovvero dare la possibilità di segnalare un giocatore o di silenziarlo nella selezione del campione quindi prima del game Durante la seconda metà dell'anno vi daremo la possibilità di segnalare i giocatori molesti nella selezione del campione All'inizio queste segnalazioni verranno usate per creare una bassa in base di dati sui comportamenti nella selezione del campione Poi, quando avremo date sufficienza per differenziare con precisione i vari tipi di comportamento svilupperemo un sistema di penalità Quindi all'inizio noi li riporteremo ma non succederà nulla Ok? Per quanto riguarda la selezione del campione Ma poi implementeranno anche un sistema di penalità E va bene Questo a breve termine è quello che vogliono fare A medio termine Compromesso tra rilevamento rapido e falsi positivi Vabbè, questa è una roba in realtà non esattamente importante Però a lungo termine da decidere Quindi ci sono dei cambiamenti che vogliono fare È stato postato un altro post due o tre giorni fa No, 29 minuti fa scusate Proprio poco fa Commenti su LOL Comportamenti negativi parte 2 Quindi un aggiornamento sulla parte 1 Allora Aggiornamenti sugli interventi già menzionati Le modifiche al sistema di notifiche delle segnalazioni hanno dato risultati sperati Quindi quella roba che sono migliorate le segnalazioni che ricevono e quindi le punizioni è andato bene La visibilità del funzionamento del sistema è più o meno raddoppiata in quasi tutte le regioni è quadruplicata in Corea La visibilità dell'applicazione delle penalità non risolverà da solo a tutti i problemi ma è un passo importante e sono abbastanza d'accordo Insieme al miglioramento delle penalità stesse ed il rilevamento delle infrazioni E va bene Le segnalazioni della selezione del campione questo importante potrebbero arrivare con la patch 10.14 ma forse finiranno nella 10.15 quindi in realtà arriverà abbastanza a breve La possibilità di silenziare durante la selezione del campione è prevista per lo stesso periodo quindi va bene Questa roba arriverà Questo è stato cambiato quindi praticamente loro ricevono delle notifiche più pertinenti riguardo persone da bannare sostanzialmente e quindi probabilmente aumenterà il numero di ban Perfetto In più c'è sta cosa che arriveranno delle segnalazioni cioè ci sarà la possibilità di bannare cioè riportare o silenziare degli utenti nella selezione dei campioni E va bene Nuovi interventi E' ciò che abbiamo imparato Allora Ora questa ce la leggiamo un po' Abbiamo fatto dei sondaggi post partita sul comportamento in gioco per creare un quadro di quanto siano diffusi diversi comportamenti e quali siano ritenuti più frustanti dai giocatori E vabbè Feeding intenzionali FK Sabotaggio eccetera eccetera Tutti i comportamenti Finora i risultati corrispondono al feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori sui social media che però sono giocatori di elo alto E questo secondo me è un altro errore Cioè voi dovete guardare anche giocatori di elo basso Perché? Non semplicemente perché costituiscano la maggior parte della vostra player base ma perché l'elo alto ha per forza di cose visto che ci sono meno giocatori meno episodi di questo tipo Mentre in elo basso essendoci più giocatori ci sono molti più episodi di questo tipo Perciò la percentuale secondo me non è rappresentativa di tutta la player base di League of Legends Dovreste fare una media tra elo alto e elo basso magari no? vi pigliate che ne so mille giocatori di elo alto mille giocatori di elo basso e vedete perché solo l'elo alto secondo me non è totalmente rappresentativo è diverso ok? Quindi secondo me questo è un altro problema da 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 indirizzare da parte della Riot non dovrebbe basarsi solo su l'elo alto ma anche su l'elo basso magari facendo una selezione ovviamente no? che ne so vuoi partecipare al coso? ok ci mandi i tuoi dati ne raccimolano che ne so mille diecimila non so quanti gliene servono e poi calcolano su quei dati questo significa che loro non si stanno impegnando attivamente per raccogliere dati ma stanno semplicemente ricevendo il feedback che questi grandi streamer danno sui social media ok? e questa secondo me è una roba sbagliata ma vabbè abbiamo anche esaminato i nostri sistemi di rilevamento e di penalità del feeling intenzionale IFK già esistenti e abbiamo tratto le seguenti conclusioni ci basiamo troppo sul fatto che il comportamento in una singola partita superi chiaramente il limite di cosa è accettabile questo implica che i giocatori possano muoversi per molto tempo sul filo di questo limite senza essere penalizzati esatto per questo dobbiamo concentrarci molto di più sul comportamento su più partite e va bene le nostre penalità per chi va IFK fanno troppo affidamento sulla penalità alla coda come quando un giocatore esce dal gioco durante la selezione del campione dovrebbe applicare più spesso altre penalità più pesanti per esempio i ben temporanei per quei giocatori che vanno IFK e escono al gioco e su questo sono d'accordo invece di bannare semplicemente con code da 15 minuti dovreste bannare pesantemente e ci sono i nostri algoritmi di rilevamento sono troppo semplici e si basano troppo su elementi come il numero di morti per partita e le segnalazioni dei giocatori dovremmo considerare molto di più anche il contesto per poter interpretare determinate azioni ad esempio se un giocatore si disconnette immediatamente dopo un voto di resa fallito dovremmo essere abbastanza sicuri che è uscito dalla partita volontariamente anche se le sue statistiche o altri comportamenti recenti sembrano a posto questa è una cosa intelligente oppure se un giocatore dichiara di andare IFK o di fare feeding e poi lo fa davvero dovremmo penalizzarlo molto più rapidamente anche se in passato non ha compiuto azioni simili poiché in questo caso è chiaramente intenzionale ok sono d'accordo su queste considerazioni però non dicono quando implementeranno queste robe spero che non vadano perse nel nel nulla queste buone intenzioni poi prossimi passi abbiamo intenzione di implementare una serie di modifiche e di esperimenti nel corso dell'anno come la possibilità di segnalare e silenziare nella selezione del campione ok abbiamo capito possiamo segnalare e silenziare la selezione dei campioni ma fate anche altro i prossimi cambiamenti sono per ora ancora in fase iniziale di sviluppo ma speriamo di potervi dare maggiori dettagli sui nostri piani in un articolo dev nel mese prossimo ok quindi noi sappiamo che loro stanno cercando di fare qualcosa quello che a me preoccupa di più è questa roba che loro stanno raccogliendo dati praticamente esclusivamente da elo alto e questa è una roba che secondo me penalizzerà molto tutto quello che faranno e non danno loro la un'immagine un quadro preciso e realistico di quello che sta succedendo perché in elo basso è un delirio voi cosa ne pensate secondo voi è vero che in elo basso è un delirio secondo voi la riot sta facendo bene a raccogliere dati solo dall'elo alto insomma fatemi sapere cosa ne pensate e che soluzioni secondo voi andrebbero implementate qua sotto nei commenti vi ringrazio per essere stati con me e spero che questo video non vi abbia annoiato troppo e ci vediamo al prossimo video ciao